Siamo giunti alla finalissima di Amici 13, Vincenzo, Dear Jack e Deborah sono i tre finalisti che questa sera si sono esibiti dando veramente tutto di loro stessi. Deborah è la più forte, vince Amici 13esima edizione, la ragazza bravissima scoppia a piangere per l'emozione. Quando si riprende un po' dice facendo riferimento a Alessandra Amoroso nei confronti di Maria De Filippi dice io ho sempre seguito Amici e mi ricordo una cosa soltanto, quello che ha detto Alessandra ha detto che tu sei una mamma, sei come una mamma ed è vero perché tu ci hai sempre aiutato e non ci hai mai fatto sentire a disagio in questo posto. Io sono cresciuta tanto qua dentro e lo sono grazie a te e a tutti quelli che ti stanno vicino e fa poi un elenco di nomi, termina il suo discorso dicendo la cosa che mi mancherà di più domani siete voi, grazie. Deborah vince anche se di poco rispetto ai Dear Jack che non solo vengono premiati dalla critica ma Maria riserva loro anche una sorpresa, una clip a sorpresa in cui Checco dei Modà dice di aver seguito questo gruppo che li trova molto interessanti e quindi per questo motivo li ha invitati a partecipare ai loro concerti, cioè i Dear Jack apriranno tutti i loro concerti. E allora per i Dear Jack c'è già questa bellissima novità ma sicuramente ce ne saranno altrettante belle e professionali per la bravissima Deborah.